buongiorno da alcuni giorni faccio alcune riflessioni tra le varie riflessioni quella che più mi mi ha incuriosito dapprima e poi ha assorbito tanta della mia attenzione ce n'è una e che riguarda proprio il titolo del video cioè reincarnazione tunnel di luce molte persone che hanno vissuto l'esperienza del coma profondo hanno parlato di questo discorso del tunnel di luce in cui sono entrati che hanno visto e poi c'è anche il fatto che secondo queste mie riflessioni ho considerato entrambe le esperienze l'incarnazione il tunnel tunnel di luce come dei programmi i programmi di matrix allora per chi avesse visto i tre film della saga di matrix o comunque per chi ha ascoltato altre mie altre mie altri mie video sa e conosce che matrix e diciamo questa realtà illusoria o virtuale del resto se andiamo come si suol dire indietro nel tempo possiamo constatare che di realtà illusoria se ne parlava già 23 mila 4 mila 5 mila anni fa forse anche di più quindi allora il film matrix in realtà non ha inventato nulla di nuovo diciamo che sono stati bravi a creare una rivisitazione di questi concetti esoterici antichi in chiave naturalmente molto più moderna e affascinante per la nostra modalità di approccio moderna ecco contemporanea che poi alla fine matrix non è nemmeno proprio qualcosa di ieri odio ma risale al 99 il primo film sono già passati ben vent'anni dal primo allora cerchiamo di cerco di spiegare questo discorso reincarnazione le discipline filosofico spirituali dell'oriente parlano di del fatto che noi non stiamo sperimentando la unica esperienza di vita adesso ma la nostra anima il nostro se interiore interiore spirituale app ma chiamiamolo come vogliamo ha già fatto innumerevoli esperienze ok innumerevoli esperienze significa che in altri tempi in altri spazi stiamo anche contemporaneamente all'adesso facendo esperienze ok nel senso che si stanno vivendo delle altre vite contemporaneamente questo alla mente razionale e logica non sembra una cosa possibile sembra veramente qualcosa di assurdo eppure in oriente ne parlano da millenni di tutto ciò se ne parlava anche nel cristianesimo fino a fino a prima che il cristianesimo fosse politicizzato con il concilio di nicea nel 300 e qualcosa dopo cristo il cristianesimo nel cristianesimo fu abolita la parola reincarnazione e non se ne è più parlato e naturalmente avranno le loro ragioni per non parlare più di rincarnazione nel cristianesimo politizzato cattolico romano apostolico eccetera eccetera no loro non è che fanno le cose a caso loro quando fanno qualcosa sanno benissimo dove vanno a parare tanto le pecorelle smarrite alla fine insomma cadono continuamente nelle trappole e quindi è questo alla fine vedi non è che c'è da studiare chissà che cosa c'è sempre domande scusate un attimo tolgo l'audio perché qui se no ok perfetto quindi reincarnazione e tunnel di luce a mio parere entrambe le cose sono delle trappole per così dire di matrix la reincarnazione è un programma è un programma che è stato che è insito nella matrix quindi nell'illusione alcune persone sostengono stando alle informazioni esoteriche delle discipline orientali che si riunisce quando un'anima come si suol dire quando un corpo muore l'anima si stacca dal corpo e ad un certo punto viene convocata in un consiglio di anime un consiglio superiore e in alcuni libri del della teosofia e quant'altro vengono si parla di signori del dei signori del karma a me questa cosa sempre è stato molto sospetto dubbi perché allora i signori del karma praticamente gestirebbero le incarnazioni delle anime ma sulla base di che cosa allora dicono che l'anima quindi lascia il corpo viene convocata da questo consiglio superiore di anime è una specie di cda consiglio di amministrazione della anima spa l'anima viene convocata gli fanno sottopongono l'anima ad una sorta di chiamiamolo interrogatorio o presunto tale l'anima ad un certo punto solo per il semplice fatto di aver visto e parlato con questi superiori stando a quello che dicono eccolo sto cercando di dirlo in modo molto semplice decide che deve scontare karma deve scontare karma perché avrà fatto delle cose ha fatto qualcosa in base alla alle quali deve scontare questo karma quindi è costretta a reincarnarsi questa reincarnazione cioè si manifesta innumerevoli volte ora sappiamo benissimo che questa matrix per potersi autosostenere ha bisogno della manovalanza chi è la manovalanza le anime che si reincarnano sono la manovalanza sono le anime che sostengono energeticamente questo questo sistema in modo tale che la stessa matrix possa autosostenersi l'energia da dove la prende questo sistema da noi si dice nel film matrix che l'essere umano equivale ad una batteria che produce circa 120 watt ora voi immaginate miliardi di batterie miliardi di miliardi di batterie quanta energia producono non solo e quanta energia producono soprattutto nella gestione della emotività umana a certe frequenze perché quello che devi sapere che dovete sapere è che ogni emozione umana soprattutto quelle negative sono quelle emozioni che generano anch'esse in risposta ai pensieri quindi vengono prodotti pensieri il corpo umano reagisce con delle emozioni come risposta al pensiero queste emozioni generano picchi energetici questi picchi energetici generati dall'emotività e non fanno altro che quindi dare benzina a questa matrix ma quella ben questa benzina è una benzina a frequenze vibrazionali tendenzialmente diciamo basse perché quasi parla di emozioni che riguardano la paura e l'invidia la gelosia la rabbia la collera tutte che si possono ripeto annoverare nel nel grande insieme della paura ok è tutta paura tutta roba che riguarda la paura e quindi reincarnazione io la vedo come un programma della matrix che serve ad intrappolare le anime nel ciclo infinito del cane che si morde la coda delle incarnazioni e questo ripeto serve per autosostenere questo sistema di parassitismo su cui matrix si basa matrix è un una è stata concepita proprio per parassitare energia senza di noi matrix non esiste collasserebbe ecco perché io in alcune altre circostanze ho definito la non azione come una modalità per tentare se fosse però condivisa la non azione con altre anime incarnate in corpi potrebbe essere una modalità per far collassare questo sistema illusorio che ci fa vivere come polli in batteria o meglio pecore in un recinto o non so o non so quale altro paragone si possa fare per essere più comprensibili il tunnel di luce che ho menzionato in questo titolo del video viene spesso citato e raccontato da coloro come ho detto poc'anzi fanno l'esperienza della premorte insomma del coma raccontano che hanno visto i propri cari che hanno sentito e rivisto quindi delle persone che conoscevano in vita che le hanno prese per mano accompagnate angeli arcangeli e non so quanto altro allora io mi basso su un principio chi diciamo ha un po fatto ricerche personali sa benissimo che esistono i sette principi i sette principi del chiballion si racconta sia un testo esoterico scritto da ermete trismegisto in questi sette principi ce n'è uno che è straordinario a mio parere credo che sia uno dei più importanti è il principio di corrispondenza in base al quale ciò che sta in alto corrisponde a ciò che sta in basso e ciò che sta in basso corrisponde a ciò che sta in alto questo principio di corrispondenza se tu lo utilizzi con un certo tipo di coscienza e consapevolezza ti permette di capire che matrix non è solo qui in questa realtà 3d che stiamo sperimentando di vita apparentemente materica fisica in realtà matrix c'è anche nel cosiddetto al di là cioè quando noi lasciamo il corpo non è che ci liberiamo della matrix siamo comunque nella matrix e siccome gli inganni ci sono e sono tanti molti di voi se ne sono accorti li hanno capiti tanti altri ancora dormono sonni tranquilli nelle braccia nelle beate braccia di mamma ignoranza perché sapete con sapere potere ma prendere coscienza fa anche tanto male e quindi tante persone per paura di prendere coscienza e di capire cose che veramente gli farebbero male preferiscono rimanere nelle tra le beate braccia di mamma ignoranza e quindi c'è da considerare che il cosiddetto al di là cioè quando noi quando si manifesta la morte del corpo fisico la morte biologica del corpo fisico noi siamo comunque coinvolti sempre in un inganno e molti di quelli che ci appaiono come nostri cari in realtà sono ci appaiono sotto mentite spoglie non sono loro ci dicono di seguirli ci prendono per mano io non ti preoccupare seguimi sei tranquillo ti porto io di qua ti porto di là questo io sono il saggio io sono il profeta io sono tuo padre tua madre tua nonna tuo zio tua sorella tuo fratello state molto attenti che quando si manifesterà perché tanto prima o poi si manifesterà i saggi dicono che l'unica cosa certa nella vita è la morte e su questo dubbi non ce n'è quindi quando toccherà a noi prima o poi toccherà che tu sia ricco che tu sia povero come diceva tutto a livella prima o poi saremo tutti livellati no finiremo per morire e quando toccherà a noi dobbiamo stare attenti a queste procedure ingannevoli che come da questo lato in cui siamo si manifesteranno anche dall'altro lato e in quell'altro lato le modalità ingannevoli saranno ancora più subdole oltretutto dobbiamo tentare di prendere confidenza con la morte la morte è un nostro straordinario alleato non è un nemico da cacciare via da fuggire la morte è un alleato ed è quell'alleato che ci può permettere la presa di coscienza e consapevolezza per uscire dal ciclo delle nascite e della morte questo ciclo infinito questa catena senza fine ci tengo molto a tentare di comunicare queste informazioni io sono una persona che come voi sapete ha il vizio del dubbio ha il vizio di porsi le domande e non mi stanno mai bene le informazioni che vengono tramandate perché vedi quello che viene tramandato se veramente fosse stato utile alla comprensione e per uscire dal cane dalla modalità cane che si morde la coda io penso che il nostro livello di coscienza e consapevolezza nel tempo sarebbe cambiato e invece se oggi noi agli esseri umani togliamo la tecnologia noi cadiamo nel profondo medioevo basta togliere tecnologie cadiamo totalmente nel baratro quindi in cosa veramente l'essere umano si è evoluto probabilmente in nulla e quindi come diceva osho probabilmente questo lo diceva negli anni 90 questa è probabilmente l'ultima generazione che avrà ancora la possibilità di ribellarsi nel senso più coscienzioso del termine ribellarsi attraverso la comprensione perché non credo che avremo tantissime altre possibilità per uscire da questo gioco e molti parlano come anche corrado malanga di mondo felice il mondo felice arriverà ma scusa un attimo io posso pure capire che prima o poi le cose si metteranno a posto ma io sono qui adesso e qui adesso le cose non sono a posto io vedo tutt'altro che a posto vedo semplicemente delle pecore smarrite che vengono sbattute da un punto all'altro senza che ecco c'è stata un'interruzione nella connessione e quindi quello che accadrà domani o fra dieci anni un milione di anni non importa quello che importa è come siamo messi adesso quello che accadrà in un futuro di non so che tipo di di quanti anni ancora di quanti secoli millennio non so quanto che importa a che cosa importa a chi importa veramente quello che accadrà la cosa che importa è come siamo messi oggi e non siamo messi bene perché c'è un ancora una forte tendenza alle tradizioni noi continuiamo a fidarci di pseudo scritture sacre che di sacra non hanno un bel nulla a mio parere ma questo in tutte le religioni c'è da stare attenti cioè ripetere a pappagallo quello che ci hanno detto altri non è una cosa che ci fa bene dobbiamo imparare a discernere e apprendere quello che realmente è utile da quello che non è utile cioè se facciamo un orto e cresce l'erba non è che quando dobbiamo togliere l'erba e streppiamo anche quello che abbiamo seminato cerchiamo di discernere l'utile dal non utile e la stessa cosa dovrebbe essere quando cadiamo nella trappola dello studio dell'esoterismo e quant'altro stiamo attenti non cadere in queste schifezze di rituali e quant'altro lasciate perdere tutto perché cadete nelle trappole dice sì ma ne devo fare prima l'esperienza sì ma se ti sto avvisando che cadi in una trappola evita di farla questa esperienza perché ti fai male ma ti fai molto male religioni modalità di rituali di liberazione non ti devi liberare da niente liberati dalle false credenze ecco questo è il rituale che devi fare comincia a capire di liberarti dalle false credenze che per innumerevoli volte te come me e tantissimi altri presenti in questo pianeta siamo stati fregati e ci hanno bloccato in questa matrix in questa gabbia energetica a bassa vibrazione perché ogni volta che abbiamo lasciato il corpo ci hanno ingannato sottomentite spoglie dicendoci che avremmo dovuto ancora fare una procedura karmica perché abbiamo prodotto karma perché la legge di causa ed effetto che abbiamo creato fa tutte cazzate tu qualcuno che mi ascolterà poi dirà ma tu come puoi dire una cosa del genere ma certo come come faccio a non dirlo per me sono tutte stronzate cioè quando una persona utilizza dei parametri di analisi no ripeto tra questi sette principi principi ermetici del chiballion c'è il principio di corrispondenza e ce ne sono tanti altri e ti invito ad approfondire chiballion i sette principi ermetici e chi ha avuto la grande lungimiranza e consapevolezza e coscienza di metterli per iscritto può comprendere che nel principio di corrispondenza del come in alto così in basso e viceversa se tu lo applichi come ho detto prima ti permette di capire come veniamo fregati e non è una visione pessimistica o negativa è semplicemente una visione che si avvale dell'analisi della realtà punto questa è la realtà che viviamo e ripeto non è che quando lasciamo il corpo fisico si presenta una realtà più benevola dove ci sono gli angeli e i nostri cari amati defunti che ci aiutano no l'intento e l'interesse di questa matrix degli esseri che sono tecnologicamente molto avanzati che gestiscono questa gabbia energetica in cui ci troviamo quindi noi siamo in una oligarchia tecnocratica l'ho detto in un altro video che significa oligarchia? Comando dei pochi che significa tecnocratico? che i pochi comandano con la tecnologia ed è questo l'era verso cui ci stiamo dirigendo un'era tecnocratico oligarchica e questo è pericolosissimo significa che ci stanno trasformando in uomini macchine o in macchine uomini chiamatelo come volete questo è gravissimo e quando certi saggi mistici nel tempo ci hanno detto state attenti perché non è che ci sono infinite possibilità per far fronte a questo inganno globale le possibilità ci sono nella misura in cui però prendiamo coscienza di che cosa siamo noi noi siamo straordinariamente potenti noi siamo Dio allo stato potenziale latente Dio non è in chiesa Dio è dentro di te nel tuo cuore e il tuo cuore è quell'interfaccia lo Stargate che si collega alla tua coscienza e quindi alla infinità del tutto questa realtà illusoria matrix è collegata alla mente da non confondersi con il cervello il cervello è un decodificatore di dati sensoriali si interfaccia attraverso una configurazione elettrochimica anche con la psiche o mente ma nella gran parte nel 99% dei casi psiche mente e l'elettrochimica del cervello servono per farci percepire una realtà totalmente illusoria cioè quello che noi vediamo con i nostri occhi non è quello che realmente è e questo per quanto filosofia possa sembrare non lo è ci sono cose che non si possono spiegare a parole le intuizioni vere non possono essere spiegate a parole io sto facendo fatica nel tentare di comunicare queste informazioni perché sono tutte intuizioni che devo trasformare in ragionamenti logico razionali per essere quindi comunicati a livello verbale ma sempre rifacendomi agli insegnamenti dei veri mistici che non professavano alcuna religione credenza se non la libertà attraverso la trasmutazione delle credenze in presa di coscienza posso solo dirti che una esperienza veramente spirituale o puramente intuitiva non può essere raccontata a parole ed è vero perché il linguaggio degli uomini è un linguaggio appositamente limitato che tende a separare in realtà la realtà reale non separa, unisce perché non c'è separazione a quei livelli invece la realtà matrix illusoria è duale è quindi separatrice separatista quindi state attenti a queste informazioni tunnel di luce esperienze che raccontano ho visto il mio nonno mia nonna l'angelo l'arcangelo spazzatura tutta spazzatura molti probabilmente rimarranno straordinariamente delusi da quello che io sto dicendo però in realtà ciò che conta non è tanto sentirsi dire le cose belle anzi spesso quando ci sentiamo dire delle cose che non sono quello che ci aspettavamo che non sono balsamo per la mente anzi tutt'altro sono quelle informazioni su cui veramente si deve riflettere c'è tanto da dire davvero tanto però io nei video cerco di dare degli spunti e allora vi dico ma veramente esiste la reincarnazione o meglio si esiste ma da chi è pilotata e manovrata e a che scopo? queste domande mi hanno permesso di fare le mie riflessioni le mie autoanalisi e anche mi ha permesso di cercare di capire il perché si manifestano e si verificano certe cose le domande quel tunnel di luce di cui parlano è veramente qualcosa di così idilliaco spirituale piacevole bello o c'è qualcosa che non va o è come uno specchietto per la lodore hai presente quando soprattutto nel periodo estivo si accendono si è magari riuniti fuori in un giardino c'è la lampada accesa e tutte le farfalline vengono attratte dalla lampada no? eh e non si può paragonare quella lampada accesa che attrae tutti gli insetti a quel tunnel di luce che ci attrae come insetti come le falene ci attrae verso che cosa? per andare dove? con chi? a fare cosa? ecco io ti invito sempre a porti domande perché le cose non stanno per come ci dicono le cose non sono per come sembrano ho scritto una frase ed è questa la frase tutto è il contrario di tutto non c'è una sola cosa che ci dicono sia nei testi cosiddetti spirituali sia nei testi ufficiali tradizionali e quant'altro che corrisponda a ciò che è quello che scrivono non deve mai corrispondere a ciò che è sono rari i personaggi che nel corso dei millenni e dei secoli si sono presi la briga di raccontarci le cose per come sono e sono stati sistematicamente eliminati non c'è premio per costoro o meglio c'è premio perché fanno il gioco della matrix allora vengono premiati ma coloro che non fanno il gioco della matrix non vengono premiati vengono eliminati in modo tale che vengano dimenticati l'umanità non deve sapere come stanno veramente le cose l'umanità deve cadere sistematicamente nella trappola dell'inganno e l'inganno va oltre quello che noi ci possiamo pure immaginare al di là di questa vita fisica ciao buona consapevolezza chiudo perché ho parlato un po' troppo spero di aver trasmesso un messaggio in questa giornata di cosiddetta Pasqua che secondo addirittura una rivista scientifica Focus potete andare a verificare si dice che non si comprende il perché sia oggi Pasqua doveva essere un mese fa dice hanno sbagliato i calcoli ma ecco vedete che gli inganni non finiscono mai ciao